Di questi primi due argomenti che cosa ci vuoi dire? Della tua opinione, prima ancora di entrare nell'argomento tuo personale. Sono piuttosto curiosa di questa notizia dei vampiri. Io quando ero più piccola ero una grande amante dei vampiri, di storia dei vampiri, partendo da Dracula e di Brastow, che poi essendo un'amante della letteratura ovviamente siamo cascati subito su questo argomento. Ma per fortuna diciamo che attingano solamente a donatori e non uccidano veramente in mezzo alla strada, se no dovremmo cominciare a camminare insomma con un po' più. Anche i figli americani sono vari, sono strani, come si suona. Esattamente, però è insomma una... Invece per quanto riguarda l'alimentazione, tu lo sapevi che le uova, insomma, per quanto riguarda la tua alimentazione se vuoi dare un consiglio alle tue coetanee, lei è giovanissima, ha 21 anni. Esatto, sicuramente le uova sono un alimento ricco di proprietà nutritive, però mangiarle proprio al mattino come in inglese non ci riesce. Ho bisogno di una bella... Cosa preferisci diciamo? Allora, sicuramente dei cereali nel latte. Ah, ma sono dei sposi in pieno. Esattamente, sicuramente per avere un po' di liturgia al mattino, prima di cominciare una giornata piuttosto faticosa. però le uova sono buone strafazzate in un altro momento. Quindi se è più per la colazione tradizionale, non per quella diciamo... In inglese, che ti prevede anche te e roba varia. Assolutamente. Va bene, allora cari amici, passiamo avanti e abbiamo un altro momento musicale. Un altro momento musicale. Un altro momento musicale che Raff sceglierà tra la famosa, diciamo, scelta, abbiamo scelto vari pezzi musicali, però... Esattamente, ma siamo partiti subito veloci, c'erano una decina di minuti. Ci siamo, ci siamo, ci piace sprucciare nei momenti musicali, poi quindi ne scegli tu e attenzione, poi dopo il momento musicale interrogo tutti e tre, perché faremo un giochino. Mi raccomando, prima ancora della mia intenzione.